Impara l'italiano con omno Uune pesta Doe gambe Una pancha Tre mani Quattro braccia Impara l'italiano con omno Che cos'è? Oh wow! Cosa sta per succedere? Penso che farà molto caldo Attento omno! Wow! Estate! Non fa troppo caldo Allora giriamo ancora la ruota E cambiamo stagione Forza così! Uh! Oh! Penso che farà molto freddo Inverno! Che bello! Si avvicina il Natale Wow! Quanta gioia! Giriamo ancora la ruota Wow! Questa volta i fiori stanno per sbocciare E' primavera! Wow! Si! Ottimo lavoro omnom Continua così Wow! Le foglie cadono E' autunno Sì! Sì! Yeee! Abbiamo visto tutte le stagioni Ora è tempo di magia Bellissimo! Wow! C'è un tempo perfetto Per un bel sonnellino Ciao! Giallo Giallo Rosso Verde Rosa Blu Oh ugh 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 giallo rosa rosso verde blu ciao ffff rosa 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 1 1 mela 2 2 ciliegie 3 3 mirtillo 4 4 fragole 5 5 pere 6 6 banane 7 7 anguria 8 8 ananas 9 9 arancio 10 10 uva 10 10 uva impara l'italiano con omnom